Uno, hai il sette per uno, hai il sette per uno Laura Zachilli, eccola qua Eh? Eh? No? Che fa? Esercizio Vorrebbe, eh? Vorrebbe fare un esercizio Perché non gli è abbassato quello che hanno fatto? Cosa le serve? Un cerchio? Una palla? Una palla, dunque, aspetti un po' Ah, aspetti, l'avevo messa qua Dove sta? Una palla Ah, eccola, che sarà nascosta Guardi, io gliela do, vediamo che ci sa fare Non lo so, faccia lei Lo sport per essere La moda per apparire Lo sport per sentirsi bene La moda per vedersi bene Perché nel 2004 Lo sport è di moda Vau La moda per essere Grazie 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 a Laura Zachilli Campionessa italiana di ginnastica ritmica Che parteciperà alle Olimpiadi Ginnastica Paola Porfiri Buonasera Paola è un'insegnante di ginnastica ritmica Ed è anche direttrice tecnica di una squadra di campionesse Sì Di ginnastica ritmica E grazie ad un emozionante gioco di ombre Vuole questa sera dimostrarci Con quale passione segua il suo lavoro E quanto ami i suoi 30 gioielli Eccoli qua Anzi, eccole qua Visto che si tratta di 30 giovanissime campionesse Buonasera ragazze Benvenute Dall'età di 10 anni La più piccola All'età di 21 anni Fanno parte della sua squadra La Aurora Fanno Che ha vinto l'ultimo campionato All'età di 21 anni Come say What should I do Just a little baby What if the lights go out And maybe And then the wind just starts to moan Outside the dark And follow me home now Good night Moon I want my sun If it's not here soon I might be turned No, it won't be too soon Till I say Good night Moon There's a shark in the pool And a witch in the tree A crazy old neighbor In me has been watching me And his footsteps loud and strong Coming down the hall Something's under the pit Now it's out in the hands There's a pig that cool Incentiva Incentiva I love you I love you I love you